ciao amici video flash sullo sfondo le circa 400 calamite di mia figlia ci teneva tantissimo a mostrarvele ed eccole qua oggi parliamo di vibris del gatto cosa sono sono i baffi dei nostri gattoni sono questi peli più grossolani più forti che furiescono dal musetto ne abbiamo 12 per lato qualche gatto ne possiede anche qualcuno in più ma questi peli ben evidenti ben grossolani possono ergersi anche al di sopra degli occhietti o dietro le zampette sono degli organi sensoriali perché a differenza del pelo normale nascono nell'ipoderma che è una struttura un po più profonda e arrivano ad essere a contatto con i vasi sanguigni o i nervi quindi sono veramente degli organi sensoriali attraverso cui il gatto può percepire gli stimoli tattili termici gli spostamenti d'aria tutto ciò che può accadere intorno a sé basti pensare che quando il gatto dorme e sta con gli occhi chiusi quindi è chiaro che lui non osserva nulla ma attraverso l'udito attraverso l'olfatto e anche attraverso i baffi riesce a capire perfettamente cosa sta succedendo intorno a lui quindi se si sta avvicinando un predatore una preda qualcosa di pericoloso quindi è come se fossero dei radar 24 ore su 24 attivi ecco perché voi non dovete tagliarli né accidentalmente e né volontariamente maggior ragione perché è come se voi andaste ad amputare il cosiddetto sesto senso del gatto possono cadere vero lo fanno spontaneamente perché è il loro ciclo biologico ma poi rinascono nell'arco di qualche settimana e quindi vanno di nuovo ad adempiere quella che è la loro normalissima funzione pensate che sono tanto lunghi quanto la larghezza del gatto e questo è come se avessero i cosiddetti sensori di parcheggio come quelli che abbiamo nelle nostre macchine perché permettono al gatto di capire se possono entrare in un in uno spazio in un anfratto in una scatola in una buca in una tana e quindi è come prendere le misure le cosiddette misure oppure se voi vedete il vostro gatto che prende il cibo dalla ciotola con la zampetta e lo tira fuori e lo mangia volentieri sul pavimento vuol dire che quella ciotola è troppo piccola quindi nel momento in cui il gatto mette il musetto nella ciotola non riesce a dare una situazione di agio ai suoi baffoni quindi osservate questi comportamenti così come vedere la posizione di questi baffi ci permette anche di capire che aria tira al nostro gatto perché in genere se sono dritti irti significa che la luna è un pochino storta del nostro gatto quindi non conviene tanto disturbarlo se sono invece belli morbidi lisci all'indietro allora sono predisposti alle coccole e a tutte le fusioni possibili se invece sono un pochino arricciati in avanti allora stanno preparando un agguato stanno esplorando stanno curiosando nel in tutto il loro splendore quindi mi raccomando abbiate cura delle cosiddette vibrisse perché sono degli organi sensoriali importantissimi importantissimi non solo per il nostro gatto per tutti gli animali ma non lo specifico per il nostro amico felino vi aspetto il prossimo video sul nostro canale mio e quello della professoressa milu veterinari arena ciao